Dare un'opportunità ai giovani talenti della regione e allo stesso tempo promuovere solidarietà e beneficenza. Tutto questo è a modo mio tour da ottobre a dicembre con Varietappe in Sicilia, presentato stamattina in conferenza stampa a Ragusa. La manifestazione, voluta fortemente da Cateno De Luca, dà la possibilità a giovani artisti inespressi di esibirsi e di avere modo di farsi quindi conoscere. E sono 13 i fortunati ragazzi siciliani scelti e selezionati a Messina. Questi, i Peter Pan, si esibiranno formando la band di Cateno De Luca. Il ricavato sarà inoltre interamente devoluto in beneficenza. Arte, solidarietà e giovani talenti si fondono quindi insieme. Un progetto che spiega a Cateno De Luca nulla a che fare con la politica che tanto lo impegna in quanto sindaco di Messina. Io oggi sono qui come cantautore, non sono qui per politica e di conseguenza possiamo confrontarci sul CD che abbiamo fatto, Stati d'animo. Avevo il mese di agosto che non sapevo come annoiarmi e ci siamo concentrati nel fare il primo CD. Ma è il primo perché già io in questi sei mesi ho scritto 95 brani, dormendo poco la notte e quindi avendo un po' di tempo per coltivare la mia passione. La mia scelta parte dall'aver ripreso il mio amore per la musica, sono uno studente, frequento nuovamente il conservatorio Corelli, il conservatorio musicale di Messina e questo mi ha riportato indietro a 32 anni fa, quando già a 16 anni frequentavo il conservatorio Corelli e sto vivendo una nuova vita insieme a questi ragazzi e quindi il tour saranno nove tappe in tutte le città della Sicilia. Si parte da Ragusa il 15 di ottobre al Palatenda alle ore 20 e 30. sarà una serata dove protagonisti ci saranno questi ragazzi che sono stati selezionati già tra il 21 e il 23 di settembre scorso da Red Ronni e da Grazia Di Michele, insieme a me e alla band I Peter Pan. Partiamo da Messina, da un piccolo progetto che doveva coinvolgere i ragazzi messinesi, cercare di dare loro la possibilità di potersi esprimere, di poter avere delle opportunità per evitare di dover lasciare la nostra terra per inseguire i propri sogni musicali. Pian piano il sogno è cresciuto e è cresciuto anche grazie a Cateno De Luca che è diventato di fatto il nostro primo ambasciatore e il nostro primo artista. Lui ha la vellità di voler partecipare a Sanremo, voler vincere Sanremo, chiaramente è un percorso lungo, però ha iniziato, ha ripreso questa sua passione per la musica e gli stiamo dando una mano per cominciare a lavorare a progetti che siano un pochino più strutturati. Ci siamo resi conto che la realtà siciliana è un po' carente nel dare le opportunità ai ragazzi per potersi esprimere e per questo abbiamo deciso di metterci in campo, di lavorare in primo piano e di provare a dare delle opportunità ai nostri ragazzi. La prima tappa prevista dal tour sarà proprio a Ragusa il 15 ottobre al Teatro Tenda, con laterali al tour eventi che coinvolgeranno ragazzi con disabilità che avranno modo tramite la musica di esprimersi. Lanciamo un nuovo progetto che è una sfida che ci ha lanciato l'Associazione Casa del Musicista che è musica senza barriere, con la volontà di fare in modo che tutti, nessuno escluso, possano impegnarsi nella costruzione di una serata finale in cui rappresentare la diversità ma soprattutto costruire la bellezza. Per cui ci apriamo a tutte le associazioni del territorio che se vorranno partecipare alla costruzione di questo progetto potranno partecipare ad un avviso pubblicato dalla Casa del Musicista e entrare in relazione con noi per la costruzione di questa progettualità. In particolare, quali saranno i ragazzi coinvolti? Le tematiche sono quelle rivolte a tutta la diversità, soprattutto all'alterità in generale per una lotta alle discriminazioni laddove la musica parla un linguaggio universale che può essere parlato da tutti e quindi fare in modo che tutti possano produrre bellezza attraverso il canto, attraverso la produzione creativa, attraverso l'ascolto condiviso ed è questo l'obiettivo.